Salutiamo questo porto pubblico che ci ha onorato e anche questo luogo veramente emozionante, siamo in un museo importante e quindi l'emozione per me è grande, non mi aspettavo tutta questa affluenza francamente. Allora la Magna Grecia, il premio è abbinato a bambini anche con la Magna Grecia Big, Latina New York, infatti vedete qualche bandierina da qualche parte perché non è solo l'Italia che partecipa ma anche l'America, è un gemellato con New York, con Mario Fratti grande, un mediografo americano, grande drammaturgo che ci ha dato un grande onore nel mondo, le sue opere vengono fatte in tutti i teatri del mondo e vengono i suoi libri e vengono tradotte anche in tante lingue. Lui è il presidente ufficiale di New York, io sono la delegata della Magna Grecia nella zona puntina e per me è un onore, sono vent'anni che mantengo questo premio con grande sforzo, grande forza d'animo perché non è sovvenzionato da nessuno, ma questi sono tutti i soci che mi aiutano a creare questo evento, partecipano e sono veramente bravi. Il premio è dedicato a mia madre Maria Panetti Petrarca, una grande scrittrice, un grammaturgo che negli anni 50 ha scoperto tanti attori come Sofia Loren, come Gennaro Cannavacciuolo e poi tanti cantanti dell'epoca hanno frequentato il nostro salotto culturale a Cumanum a Puzzuoli.